Ciao, sono Giovanni Prosperi, sono toscano ma vivo a Roma da circa una ventina d'anni e mi sono formato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Sì, qui nella vita ho fatto audiovisivo e tanto teatro. I miei ultimi lavori in televisione sono stati I delitti del Barlume X per la regia di Roan Johnson e Il Clandestino per la regia di Rolando Ravello. In teatro invece l'Amleto al Teatro Argentina per la regia di Giorgio Barberi Corsetti. Quindi vivo a Roma ma ho anche appoggi in Toscana, sia nella provincia di Firenze che nella provincia di Grosseto. Sono certamente una persona molto sportiva, ho fatto una miriade di sport nella vita, un po' più seriamente la palla a volo. Sono alto 1,77 m, ho 41 anni e sono rappresentato dalla Cantera Management. Arrivano i miei profili. Adesso è il migliore, almeno per me. A presto!